Ci ha messo molto in difficoltà, ma più che il gol i primi 15 minuti nell'atteggiamento che abbiamo avuto perché comunque sapevamo molto bene che il Picerno avesse queste caratteristiche, avesse un grandissimo palleggio fino alla situazione del gol avevano mantenuto questo fraseggio, questo possesso palla abbastanza sterile senza crearci problemi e in quella circostanza eravamo anche stati bravi a creare quell'occasione di Malcore dove si è ritrovato a tu per tu col portiere e dove sicuramente in altre circostanze ha fatto meglio, spostando poi gli equilibri della partita. Dopodiché sono stati bravi loro a trovare questo loro gol, un po' meno noi nella situazione in cui si è ritrovato poi Esposito a giocare da solo con un avversario, con credo Olivera, nell'area di rigore. Bisogna lavorare sicuramente su quella situazione lì perché è arrivata la palla di Esposito in maniera troppo semplice.